Per decidere il futuro della governance della Camera di Commercio di Napoli è intervenuto il TAR della Campania che ha riammesso le sei associazioni che erano state stromesse dalle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ente di Piazza Bovio. Le esclusioni, per diversi motivi, avevano toccato ACEN, l'Associazione dei Costruttori, la Conf Commercio, la Compagnia delle Opere, Federdat, Conf Imprese e CNA. Le scelte attuate dalla giunta guidata da Cirofiola non hanno retto davanti al ricorso e il TAR ha chiuso la vicenda accogliendo la richiesta. La partita non è conclusa però, il presidente Fiola infatti andrà al Consiglio di Stato contro la decisione del Tribunale Amministrativo. In più Fiola ha annunciato anche di essere pronto a querelare le associazioni storiche che hanno puntato il dito dritto contro di lui, accusandolo di aver tramato per indirizzare le elezioni per il prossimo rinnovo dei vertici della Camera di Commercio di Napoli, escludendo le organizzazioni imprenditoriali.